Ottobre è spesso visto come il mese della prevenzione dentale. Il problema è che noi la prevenzione dentale la facciamo tutto l'anno. Allora abbiamo avuto un'altra idea. Già da qualche anno utilizziamo il mese di ottobre per sensibilizzare i pazienti sulla possibilità di tornare ad avere i propri denti fissi con gli impianti dentali. I pazienti a volte hanno qualche dubbio riguardo gli impianti dentali. Pensano che siano ad esempio dolorosi. In realtà se gli impianti sono fatti nel modo corretto gli interventi sono oggi talmente poco invasivi che gli impianti non sono assolutamente dolorosi né durante l'intervento né dopo l'intervento se vengono presi i farmaci correttamente. Tra l'altro oggi la tecnologia ci consente in buona parte dei casi di restituire i denti fissi ai pazienti nell'arco di 4 o 5 ore. Spettacolo! Alcuni pensano poi che possa esserci il rigetto. Beh il rigetto sui impianti non esiste però è possibile che gli impianti abbiano una piccola percentuale di fallimento. Consideriamo questo nel 98 per cento dei casi tutto va bene e l'impianto si attacca all'osso. In quella piccola percentuale di sfortuna beh in quel caso riposizioniamo l'impianto senza costi aggiuntivi per il paziente. E quando abbiamo poco osso? Beh quando abbiamo poco osso oggi gli impianti si possono mettere lo stesso. O nell'osso resilmo andandocelo a cercare o utilizzando un osso diverso come quello zigomatico oppure andando a fare un piccolo aumento dell'osso presente per poterne avere abbastanza e poter inserire gli impianti. Se quindi vuoi valutare la possibilità di tornare ad avere i tuoi denti fissi tornare a masticare comodamente ed avere un bel sorriso puoi prenotare una visita presso il nostro studio e metteremo alla tua disposizione la nostra competenza quindicennale per valutare il tuo caso. Ciao! 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 Ciao!